Sono finora oltre 2.000 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, nel 2023, furono quasi 5.000, mentre nel 2022 poco più di 3.000. Il dato è stato diffuso dal Ministero degli Interni. Dei 2.143 migranti sbarcati in Italia quest'anno, il 20% è di nazionalità siriana, sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco. Gli altri provengono da Bangladesh, 16%, Tunisia, 9%, Egitto, 8% e a seguire Pakistan, Sudan, Gambia, Etiopia, Eritrea, Mali. A questi si aggiungono 729 persone, ossia il 29%, provenienti da altri stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati parlano di quasi 139.000 persone su tutto il territorio nazionale, di cui 289 negli hotspot in Sicilia e Puglia, oltre 103.000 nei centri di accoglienza e 35.000 nei centri SAI, ossia il sistema accoglienza-integrazione. La regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Campania.